Ciao a tutti ragazzi, sono NDD e bentornati sulla Exit Allora, oggi finiamo di fare la nostra... Eh, dove l'ho messa? Porca... eccola qua Questa, perché praticamente... Uh, ah, già me la sono messa, ok Ho trovato le scarpe in qualche meandro, non so di cosa E manca solamente la capocetta La capocetta, siccome ho 4 Exical Pinko Pallo l'ho fatti Possiamo anche farla Dov'è la capocetta? Capocetta, 3 ossidiane e 2 oro 2 oro e 3 ossidiane Poi mettiamo questo qua E abbiamo fatto la capocetta Ok, ora siamo a palla di fuoco Nel vero senso della parola Perché qui mi dà resistenza Resistenza al fuoco 2 E strong, string, strong, strustrastri Poi ho sistemato un po' le ceste Come potete vedere ci stanno un botto di ceste adesso Però dovrò trovare una sistemazione un po' più carina Perché così non si può vedere Ehm Poi C'è questa cesta qui Reinforced Non ho capito a che serve Forse se ci esplode un creeper a vicino Non esplode Non si distrugge Poi che altro dovevamo fare? Ah, c'è uno di voi Mi ha chiesto Come si fanno gli spawner Allora, gli spawner Sulla exit O comunque sul Tutto minecraft Non si possono creare Spavne A meno che Spavne, porca vacca Ecco qua A meno che Ehm Non facciamo Non so Ci sono alcuni Alcuni mob Alcuni mod Vedete Se io ci sto cliccando sopra E non mi dà nulla Alcune mod invece Questo nemmeno mi dà qualcosa No Un tubo Questo nemmeno Questo nemmeno Cioè nulla Gli spawner non si possono fare Questi qui che è Fate Spade Right click And to add enchantment Ok, va bene Ce ne ho fatto un tubo Comunque Dicevo Gli spawner non si possono creare A meno che Ehm Ma che cacchio Perché me ne dà 64? Ah, perché sto in coso A meno che noi Non Non abbiamo una mod Che ci Praticamente ci dà Delle sfere Delle Delle Come diavolo si chiamano Safari Safari Non ci stanno infatti Si chiamano Safari qualcosa Sono delle Sorte Sorte De sfere Pokéball Tipo Quelle della Delle sfere Pokéde Dragon Dei Dei Pokémon Che ci fanno catturare Dei Sì Dei Pokémon Dei Mod E con Con Dove sono Con queste Le stone No Con quelle di ferro Vabbè Possiamo fare le gabbie E metterci dentro lo spawner Così Lui ci dà Ovviamente Lo spawner proprio Il totale dello spawner Perché del resto Non si può fare Nient'altro Solo in quel modo Si può fare Infiniti Ah ma avete detto Di fare Infiniti Ci sta Infiniti Sulla Sulla Bove Sul Bove Bove Questo qua Ci sta Quindi Non lo so Non so che altro Mettergli in realtà Perché Se noi andiamo a vedere Questa c'ha quasi tutto Ovviamente Blood Dobbiamo metterglio E non Ce ne vogliono 33 Comunque No 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 Dov'è Mia Quella mia Poi ho trovato Questa lampada Che Come potete vedere Possiamo anche togliere la torcia Guardate Vi faccio vedere subito Se noi la distruggiamo Boh Sparisce Non è più giorno Se noi la rimettiamo Diventa giorno Comunque Tolte Bando alleciante Ciancia alle bande Finalmente abbiamo fatto La nostra bellissima Armatura Come si deve Adesso Siamo molto più resistenti E molto più Cattivi Uh ciao E ora Possiamo andare a sfondare Un po' di chiappette Però Prima di andare a sfondare Un po' di chiappette Mi avete detto Di fare Anche L'hammer Che si chiama Hammer Vabbè Il martello gigante Mi avete detto Il martello della Tinker construction Sì Dovrebbe si chiamarsi Hammer Sì è questo Hammer Praticamente Questo Oh mi avete detto Il botte No 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 L'hammer L'hammer Ok Mi avete detto Fatti l'hammer Che quello è figo Martelli e spacca Mezzo mondo Sì Spacca un 3x3 In realtà Sì Comunque Dobbiamo fare questi E per fare questo Questo cos'era? Non mi ricordo più Ma sai ce l'ho No Ah ci abbiamo il coso Però qui Dell'hammer Interessante È interessante Stone to rot E per fare l'hammer Ci vuole It's Block Rage of Non c'è scritto Mannaggia Questo cos'è? Non ce lo dice Questi Li facciamo subito Proprio immediati No Pattern Ah aspetta Fermo Questo mo' Metti qui E così Poi lo facciamo Anzi Lo facciamo subito Datemi un po' Della coble Cobble Grazie Cobblestone E facciamo subito L'hammer Il pezzo Dell'hammer Perché non me lo fa? Perché non me lo fai? Dai che poi ti devo mettere dentro la cosa e cucinarti Dai Non me lo fa Interessante Ah minimo livello Iron Tu sei matto Livello minimo Ferro Tu stai fuori di testa Fratello Tu stai bruciato Proprio È uguale Te ne ho messi 64 È uguale È uguale Non me lo fa Allora Facciamo così Ah perché forse Ce ne vogliono più di uno Eh infatti Sì Ce ne vogliono più di uno Ok L'hammer l'abbiamo fatto Ora dobbiamo cercare Questo Questo Che sinceramente Mi sa che è il Questo qua Già ce l'ho È questo È lo stone to road Sì Quindi stone to road Questa Questa la possiamo togliere dal cacchio E poi ci servono Le faccine Dobbiamo fare due faccine Dobbiamo fare due faccine Mi servono i patter Porca vacca i patter Legno 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 Oh abbiamo finito il legno No Non è finito il legno Che dico Che cosa sto dicendo Che cosa sto dicendo Come se facevano i patter Non mi ricordo più Ah quei bastoncini Sì Quei bastoncini Metti i bastoncini così E il legno così Sì Fratello Eccolo E' questo no E' quello là Sì Eccolo là Mio Ne basta uno Che tanto ne servono due Ma ne basta uno Ok Possiamo poggiarlo qua Per ora questo Lo poggiamo qui Il legno Lo rimettiamo a posto Via Via Il ferro Lo rimettiamo a posto E E Che dobbiamo fare? Niente Questo ce l'abbiamo Questo ce l'abbiamo Dobbiamo fare questo Ci serve Un'altra cobblestone Mazzacheco Come rimescordo io Ok Perfetto Uno solo Che tanto Uno ce ne è bisogno Lo facciamo due volte Poi dobbiamo farlo d'oro Quindi Prendiamo Ce lo deve avere giù Un blocco d'oro intero Per No Non ce l'ho Porca vacca E lo faccio Un blocco d'oro intero Dov'è la cosa qui? Datemi Datemi subito Una cacchio di Ah Questa Ok Ah è vero Ne manca uno Che idiota che sono Vabbè Non me ne effetto un tubo Ci rimetto così come stanno Nove Via Da qua Boh Blocco d'oro Ora andiamo fuori Vediamo se c'è qualcosa No Non c'è nulla Quindi gli mettiamo Il bellissimo blocco d'oro La lava c'è Ok Mangiamo Perfetto Ok La lava c'è Qui Dobbiamo aspettare Mentre aspettiamo Cosa facciamo? Non lo so Possiamo Possiamo Ah Rifacciamoci le boot Quelle lì Che volavo Quando volavo Le boot Quelle fighe Che non ce l'ho più Mi sono rotte Quindi Rifacciamola Prendiamo le piume Dobbiamo farle diventare d'oro Le piume Oh porca vacca Non vedo Eccole qua Quattro piume Dobbiamo farle diventare Tutte d'oro Però l'oro Lo vado a prendere giù Bene Mio Quattro piume Quattro piume d'oro E dobbiamo fare Uno Due Tre E quattro Quattro piume d'oro Non sono staccabili Dacci le pippo E quando svieni Quattro piume d'oro Si mettono così E facciamo I cloud boots Ok Anche i cloud boots Sono stati Completati Qui Abbiamo completato L'affare Fatto a tato Nove pezzi Perfetto Quello che ci serviva Allora Questi li leggiamo qua per ora Qui ci mettiamo Questo E lo fai diventare d'oro Eh Questo ne richiede un po' Ok Mio Poi ci mettiamo E questo l'abbiamo fatto Questo E lo fai diventare No Ce l'avevo L'ho sprecato Fa un cuore Ce l'avevo questo io E questo che non avevo Quello ce l'avevo L'ho sprecato Porca vacca L'ho sprecato Porca Miseria Ladra Vabbè Questo posso rimetterlo Dentro la fornace No? Giusto Se lo rimetto nella fornace Lui me lo fa Diventare Oro Col cacchio Costa ceppa Ah forse so dove metterlo Fermi So dove metterlo Adesso te lo metto Tutta in delle chiappette Qua Lo cuoci? Lo cuoci? Lo cuoci? Lo cuoci? Non lo cuoce Non ce la va Cazzo Vabbè Ne abbiamo uno in più Non si sa mai Non si sa mai Ma dove l'ho messo? Giusto per sapere Dove l'ho messo io? Perché qui non ci sono Eh no Quindi non l'avevamo fatto Bene Sono contentissimo invece Sono proprio contento Ah ah Perfetto Ok adesso Dobbiamo andare a fare Il materiale Che materiale usiamo Per fare Il coso? Domandone da 7 milioni di dollari Che materiale usiamo Per fare la cosa Qui L'oro No perché l'oro Adesso vuoi guardare No Non è questo Madre L'ansiglio Eccolo qua Però mi pare Che questo qui Non ce l'aveva No Non ce l'aveva Ok Se 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 Allumite ingot Eh no 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 Eh no Non era questo Via Non era questo Di libro Via questo libro E vediamo Questo nero Mi pare che era Quello nero Eh no Quello nero è Per sì Eccolo Allora Allora Bronzo Alluminio Manilium Allumite Allumina Iron E ossidiana Manilium 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 Ma vaffa culo Cobalt Ardite A me piace A me piace Più Questo Tirare La tutta Alluminium Iron E obsidiana L'alluminium Ce l'avevo io Da qualche parte Tin Copper No però Mi pare Che si faceva Alluminium Allumi Non c'è L'alluminium Stilingot Medeor Advanced Batwall Non c'è L'alluminium Oh oh Che cacchio Porca Baca Spoo Alligator Allumi Allumi Eccolo Alluminium 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 Brass Come si fa Questo Eh no Tu mi devi dire Alluminium Ingot Alluminium Ingot Come si fa L'alluminium Ingot E' da trovarlo L'alluminium Ingot Da cercare Quindi in teoria Dovrei averlo Da qualche parte Se io non ho E scendi Due ore Se io non Mi voglio Sbagliare Con No Era tin Infatti Tin Iron Iron Tin Bene E quindi E quindi niente E niente Perché questo C'aveva Reinforced Due Con L'alumin 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 Aluminum Alumin Con Con L'aluminum Ingot C'aveva Reinforced Due E non E' per niente Male Reinforced Due Cioè Non ce l'ho Ah poi Mi avete detto Che questo serve Da non buttarli Perché serve No Poi se mi spiegate A cosa Che uno mi ha detto No no Non li buttare Serve E se non mi dici A cosa Come Come faccio Mi scrivete A cosa Per favore Poi Che abbiamo qui Non ce l'abbiamo Niente Regale Andiamo a cercare L'aluminum Porca vacca Dobbiamo cercare L'aluminum Perché qua Dice Che ci vuole Avanti Aluminum Iron E ossidiana Cobalto E ardite Aluminio E copper Copper E tin Per fare Il bronzo Ma il bronzo Non mi piace Il bronzo 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 Il bronzo Non ha niente Di speciale C'ha Reinforze D1 Il bronzo Però pure Il bronzo Pure di bronzo Tanto poi Lo Li mettiamo Dentro Tutto Allora Come si fa Il bronzo Facciamolo di bronzo Sì cacchi Copper E tin 3 di copper E una Di tin Copper E tin 3 di copper E una Di tin Dove è la porta? Qua Mi sto a rincoglionire Allora dentro c'è ancora l'oro Lo facciamo colare qua Quindi È fatto Grazie Poi qui ci mettiamo 3 di copper 3 E 2 di tin O una di tin Non me la ricordo più E una di tin Chi è che mi manda le mail? 3 di copper E una di tin Vai Fuel La voglia Ma chi è che mi manda le mail? Sono impegnato Sto registrando Ok Cominciamo a mettere quello lì Il copper Lo sta Cuocendo L'allumino La cosa Il tin L'ha cotto Ma dovrebbe unirsi E farmi Il bronzo Dai su Sei lenta Come sei lenta Macchinetta di merda Uno l'ha fatto L'ha fatto L'ha fatto Perfetto Bronzo 3 di bronzo Perfetto Manna giù Quanto succhia questo? Tutti Bello E non ha bastato Minchia Allora 3 di copper E uno di tin Poi 3 di copper E uno di tin Ok Devo Devo aumentare un po' qui la cosa Che è poco Così è poco Ok Mentre lui smacere e fa scoce Noi andiamo qua E rimettiamo Eeeh Ce l'avevo Rav alluminum Fanculo Lo dovevo solo cuoce Lo dovevo solo cuoce E non si cuoce Come lo faccio L'alluminum Con questo? Ah Perché diventa Eeeh Pini punch Ah posso pure metterlo direttamente qua Vabbè Noi fammo così Fermi eh Boh Tiè Sessantaquattro milioni Dei pezzi Tiè Ma che volevo di più Davida? E no Mi fai un No 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 Fermo Come faccio a farlo diventare un Un coso Scusa Scusa No 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 Fammi capire Come ti faccio diventare un E ma la Allora Sei te sei? Ah non è così Non è Oh signore Ok Allora non si può fare Dobbiamo metterlo direttamente a cuocere così Dobbiamo metterlo direttamente a cuocerlo così Dobbiamo metterlo a cuocerlo direttamente così Ok Però per ora stiamo facendo il bronzo Va bene il bronzo Non mi interessa Poi magari lo rifacciamo Più avanti L'hanno imposto con una mano che mi dà fastidio Bravo Grazie Indurisci Leva questo E metti questo Via Quanto stiamo? Se l'hai succhiato tutto Devo rimetterlo Ok Copper 1,2,3 1,2,3 E poi 1,2 Vai Madonna Quanto cacchio succhia Per fare un martello Ok ragazzi Noi nel prossimo episodio lo finiamo Finiamo il martellozzo E poi vediamo se riusciamo a farlo Col ravaluminum Direttamente Allora aspettate Aluminum Alluminum Eh si per forza Dobbiamo metterlo dentro La liquid table Quello là Lo mettiamo intero come sta E ce lo facciamo suddividere Da Da pinco pallino Ok ragazzi Come sempre sono i dischi Scrivete Lasciate un commentino Noi ci vediamo in un prossimo episodio Ah quello sta lì E Io intanto Finisco di Di fargli fare Ah ok Finisco di fargli fare qua Sti due pezzi rimasti E Noi ci vediamo Prossimo episodio Ha già fatto Ha finito già i cosi Allora continua Uno due tre Uno due tre Uno due No mi serve più alto sto coso Mi serve Devo andare a cercare l'altra clay E fare Ok io intanto Finisco qui Poi lo facciamo insieme ragazzi Non vi preoccupate Lo lascio così E lo costruiamo insieme Che tanto questo va qua Quelli vanno qua Poi noi dobbiamo fare due di quelli Quindi a voi e a te Noi ci vediamo in un prossimo episodio Come sempre sono AndyT Iscrivete Lasciate un commentino Fate quello che volete Lo sapete E niente E ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti